Francesca ha avuto una bellissima idea per far sta attento a Edoardo all'albero di Natale e ha detto che scotta Delicato è quell'alberello Edo, bravo che scotta, soffia soffia Edo, attento, bravo, bravo, prendi la bici bravo amore, vai a farti un giro una bellissima idea, infatti Edoardo sta attento sta vicino all'albero e soffia per non scottarsi e poi va via, ma quanto è bravo Edoardo e da provare